Treni di ultima generazione anche per la tratta Stia-Arezzo, Sinalunga, l'investimento è della regione toscana. La priorità era la riqualificazione della stazione, abbiamo investito 2 milioni e 600 mila euro e l'acquisto di nuovo materiale rotabile. Grazie al nostro rapporto con il Ministero e al lavoro puntuale e determinato, siamo riusciti a ottenere 6 milioni di euro di risorse del PNRR per questo primo treno pop e altri 13 milioni per un accordo con il Ministero specifico delle ferrovie di proprietà delle regioni e quindi i treni saranno ben 3 per un investimento complessivo di 19 milioni di euro. Questo è un treno nuovo di ultima generazione, un elettrotreno costruito con il 97% da materiale riciclato quindi anche un treno che sta chiaramente molto attento a quelli che sono i bisogni ambientali ma soprattutto la nota secondo me da sottolineare è la particolare tecnologia dei flussi di aria calda e fredda che sono flussi intelligenti nel senso che in base al numero di passeggeri regolano l'aria calda o fredda all'interno dei convogli. Con l'investimento importante che l'arricone sta facendo per la ciclovia era utile e necessario che anche i treni che andriamo ad acquistare fossero dotati di un posteggio comodo per le bici. Oltre a questo ci sarà anche il nuovo sistema Pay&Go. Questo sistema Pay&Go ci allinea in maniera a questo punto ufficiale a quella che è la tecnologia di pagamento 4.0 perché davvero con una carta di credito possiamo tranquillamente e in maniera molto rapida e semplice acquistare titoli di viaggio fino a 4 persone ed era corretto che anche la nostra linea ancorché regionale fosse dotata di una strumentazione del genere.